La mamma di Edo ha confermato per tre persone e l'una. Sì, lo sapevo già. Com'è di persona? Chi? La signora Vecchia. Com'è, simpatica? Simpatica, simpatica. Franco, il sifone per piacere. Grazie. Che prezzo fai, Edo, per la festa? Niente, è un mio regalo. Baccalala livornese, Franco. Va in carta questa. Ce l'abbiamo fatta.